CrossFit 4 leoni di Vallo della Lucania, protagonista alla maratona del fitness di Agropoli. Il team competitor è stato impegnato prima con una demo e poi con una lezione introduttiva al CrossFit. Una giornata all'insegna dello sport organizzata da Afrodite Fitness che ha invitato la palestra di Carmine Elia a partecipare all'importante evento e mettere in scena la passione di questi ragazzi per uno sport che si sta sempre più diffondendo in quanto viene promosso sia come una filosofia dell'esercizio fisico ma anche come uno sport agonistico di fitness. Sì, è stata una bellissima manifestazione organizzata da Afrodite Fitness, da Annalisa D'Amato ad Agropoli. Ci siamo divertiti un sacco e abbiamo portato il CrossFit con una lezione introduttiva dove ha partecipato fortunatamente tanta gente e ci siamo divertiti tantissimo anche noi. Stiamo vedendo le immagini, CrossFit, allora una bella dimostrazione ma possiamo spiegare in cosa consiste questa attività? Sì, è un'attività, una disciplina che mischia tre attività diverse. Tutto quello che è lavoro aerobico, quindi corsa, bici, nuoto, salto con la corda, avvocatore, simulatore di sci, tutto quello che è lavoro di condizionamento metabolico abbinato alla ginnastica artistica, quindi corpo libero e attrezzistica e sollevamento pesi olimpionico. Tutto il lavoro che si vede all'Olimpiadi col bilanciere. Sono tutte attività che, messe insieme, vanno a lavorare sulle 10 abilità del fitness e consentono alle persone che lo praticano di stare meglio ogni giorno che passa. Un'attività adatta a tutti? Sì, è un'attività adatta a tutti perché tutti gli esercizi prevedono delle progressioni scalabili all'infinito, quindi che vanno bene dal ragazzino di 10 anni fino alla persona di 80 anni. Non è mai troppo tardi e il bello di questa disciplina è che, al di là di quello che si dice in giro, effettivamente in 90 giorni, in 3 mesi, in 4 mesi, si riescono ad apportare significativi cambiamenti al proprio fisico. In questo video vediamo un po' i ragazzi che rappresentano la realtà dei 4 leoni crossfit, 4 leoni, naturalmente loro tanto impegno, si allenano tutti i giorni, è difficile raggiungere questi risultati? Si raggiungono in un anno, ovviamente l'impegno necessario per raggiungere determinati livelli non è quello del fitness tradizionale, ma sono ragazzi che comunque si allenano 5-6 volte a settimana per 2 ore a sessione, ma in poco tempo comunque, tra virgolette, riescono a raggiungere comunque risultati eccellenti. Il suo consiglio l'abbiamo già dato, possiamo anche iniziare oggi, insomma, qualche risultato per l'estate lo vedremo? Certamente sì, cominciando oggi sono 3 mesi abbondanti e noi garantiamo risultati certi.